All'arrivo Antonio Perracina fa segnare un 2.56, 2.59 All'arrivo Antonio Perracina fa segnare un'arrivo Antonio Perracina All'arrivo Antonio Perracina All'arrivo Antonio Perracina All'arrivo Antonio Perracina All'arrivo Antonio Perracina con il numero 27 Salvatore Lipari scuderia piloti per passione con la A112 Abarth sempre nella S3 scuderia pilota Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.